Oio gozaimasu a tutti! Oggi ci siamo alzati alle 6 per prendere questo bellissimo pullman e andare e trovare i parenti della Monica che sono ricoverati presso il Monkey Park Ciao! Il parco delle famose scimmie che si vedono nelle immagini con la neve che vanno a fare il bagno nell'omse bollente Abbiamo detto che non sono molto amabili Non sono amichevoli, dicono Staremo a vedere Però anche l'autista sembra un po' scimmia L'unica via di accesso al parco e attraversare questo tronco Speriamo di riuscirci Loro ce l'hanno fatta Ora Loro ce l'hanno fatta C'è un po' scimmia Loro ce l'hanno fatta Loro ce l'hanno fatta C'è un po' scimmia Loro ce l'hanno fatta Aggiungi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.